Benvenuti nel mondo di Jandev. Jandev è un marchio svizzero di orologi di lusso che si è imposto nel mercato grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla precisione e alla qualità dei materiali utilizzati nella produzione dei suoi orologi. Fondata nel 1888, l'azienda è stata creata da Charles Barbésat, un orologiaio svizzero che ha subito impresso il suo marchio nella produzione di orologi di lusso. L'azienda svizzera è famosa per la creazione di orologi dal design e dalle funzioni particolari come il modello Sektora, un orologio da polso con una cassa dalla forma a lettera D. Questo segnatempo consente di visualizzare l'ora in modo non convenzionale, tramite delle lancette dalla funzionalità retrograda. La combinazione di design innovativo e funzionalità avanzata è ciò che rende gli orologi Jandev unici e distintivi. I materiali utilizzati nella produzione degli orologi Jandev sono di altissima qualità. L'acciaio inossidabile, il titanio e il PV di nero sono solo alcuni degli esempi di materiali utilizzati dall'azienda svizzera per la produzione dei suoi orologi di lusso. L'attenzione ai dettagli nella produzione di ogni singolo orologio è ciò che rende gli orologi Jandev oggetti unici, che si distinguono per la loro bellezza e la loro qualità. In conclusione, Jandev è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha saputo distinguersi nel mercato grazie alla qualità dei suoi materiali, e grazie alla precisione nella produzione dei suoi orologi. L'innovazione tecnologica e il design unico rendono gli orologi Jandev oggetti di grande valore e bellezza.